Appena 24 ore dopo l'annuncio del nuovo decreto legge, con le limitazioni per le festività natalizie, molti cittadini si ritrovano con un mal di testa causato dalla non facile interpretazione delle tante regole, possiamo dire incrociate. Tra queste è quella che prevede la possibilità di spostarsi tra comuni sotto i 5.000 abitanti nei giorni arancioni, ossia il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021. Ma quali sono i paesi della provincia di Lecce con meno di 5.000 abitanti? Sono molti, quasi la mità, ben 42. Nell'elenco Acquarica del Capo e Presicce risultano ancora separati, trattandosi di un dato demografico aggiornato solo al 2019. Sono 42, dicevamo, i comuni nel Salento sotto i 5.000 abitanti e sono Muro Leccese, Specche, Andrano, Acquarica del Capo, Salve Supersano, Uggiano La Chiesa, Sogliano Cavour, Cursi, Arnesano, Castigliano dei Greci, Carpignano, Salentino e Spungano, Minervino di Lecce, San Pietro e Lama, Amigiano, Morciano di Leuca, Santa Cessaria Terme ed Iso, Casti di Lecce, Tigiano, Botrugno, Montesano, Salentino e Caprarica di Lecce, Castro, Ortelle, Nociglia, Sternatia, Melpignano, San Cassiano, Zollino, Giordignano, Secli, Bagnolo del Salento, Cannole, Patù, Martignano, Surano, Palmariggi, Sanarica e Giugianello.